Operativa in ambito nazionale oramai da anni, sbarca anche a partinico la realtà del Tribunale dei diritti del malato. È stato attivato un centro di ascolto all'interno dell'ospedale civico della città, al sesto piano, dove a partire dalla prossima settimana si riceverà l'utenza interessata ogni lunedì e venerdì, dalle 10 alle 12.30 e il giovedì dalle 16 alle 18.00. Lo sportello, che è stato inaugurato ieri pomeriggio, sarà direttamente gestito da cittadinanza attiva TDM, guidata dal coordinatore della sezione locale Andrea Supporta, che ha sede legale a partinico in corso dei mille al civico 172. Si tratta di una struttura che mira alla tutela e promozione dei diritti dei cittadini nell'ambito dei servizi sanitari e assistenziali e per contribuire ad una più umana, efficace e razionale organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. Io dico grazie anche alla Direzione Generale di questi ultimi tempi, che è molto attenta, soprattutto cerca di valorizzare il rapporto con la cittadinanza, con la città e quindi con i pazienti. C'è una sanità abbastanza buona, mancava, ma oggi c'è, soprattutto la presenza del punto di vista del cittadino, cioè come vede, come valuta il cittadino questa sanità. Oggi, dopo tantissimi decenni, siamo riusciti a destinare uno spazio, e questa è una bellissima cosa, qui in ospedale, per far sì che il Tribunale dei diritti del malato, che persegue un interesse solo di natura generale, ossia il diritto alla salute del cittadino, possa raccogliere tutte quelle che sono le istanze dei cittadini. Il TDM è una rete costituita da cittadini comuni, ma anche da operatori di diversi servizi e da professionisti che si impegnano a titolo di volontariato. Ne esistono circa 10.000 in tutta Italia. Nello specifico, gli obiettivi sono quelli di garantire che ovunque un cittadino abbia necessità di assistenza, consulenza, aiuto per far valere le legittime aspettative e opportunità per ottenere la tutela e la protezione dei suoi diritti e di promuovere la partecipazione civica affinché i cittadini stessi siano protagonisti delle azioni di tutela in ambito sanitario, sia mediante l'accoglienza delle attività del TDM, sia mediante l'apertura di spazi di attivismo civico nell'organizzazione sanitaria. E' un ulteriore tassello questo per il nosocomio partinicese, che già è stato interessato da una serie di interventi di ristrutturazione che l'hanno oramai reso un vero e proprio fiore all'occhiello. Grazie alla grande collaborazione, alla grande disponibilità data dal direttore generale Antonio Candela, abbiamo fatto sì che questo ospedale si trasformasse da piccolo ospedale di periferia a cuore pulsante dell'intero golfo di Castellammare. Lo abbiamo fatto con forze, lo abbiamo fatto anche con... Per noi era importante che sulla sanità si segnasse un elemento di distacco rispetto al passato.